La medicina nucleare di Arezzo è declassata da unità operativa complessa a unità semplice a lanciare l'allarme e la dirigenza del Calcite tramite una nota e riguarda un servizio che dispone della PET-TAC acquistata nel 2005 dal Calcite di Arezzo con i soldi dei cittadini e che esegue circa 1700 esami all'anno. Dopo oltre 5 anni che era stato indetto un bando di concorso pubblico per individuare il nuovo direttore continuamente rinviato, il concorso si legge nella nota del Comitato Aretino, nei mesi scorsi viene revocato e adesso il declassamento ad unità semplice. Vogliamo assolutamente contrastare questa decisione e chiediamo alla direzione aziendale di correggere la riportanda ad unità complessa la medicina nucleare di Arezzo, un servizio che è fondamentale nel percorso della lotta contro i tumori e unico per tutta la provincia di Arezzo. La nostra richiesta si basa su dati obiettivi verificabili, nessun'altra città dell'azienda a Usla Sud-Est dispone della PET-TAC e nessuno esegue il numero di esami che effettua la medicina nucleare di Arezzo che risulta essere tra le migliori in Toscana e in Italia. Riteniamo che questa decisione sia sbagliata e penalizzante, prosegue la nota per il nostro territorio e invitiamo il sindaco di Arezzo e tutti gli eletti con i voti dei cittadini che ricoprono ruoli istituzionali a fare quanto necessario presso la direzione aziendale della Usla Sud-Est, presso la Regione Toscana e presso il Ministero della Salute. I cittadini di Arezzo, conclude la nota, hanno sempre dimostrato di partecipare attivamente e concretamente alla gestione della sanità pubblica e non intendono vedere compromesso il lavoro svolto con sacrificio e senso civico ininterrottamente dal 1978 ad oggi.